Mi alzo la mattina uè, che schifo di giornata uà Non riesco più a capire se trovare la felicità Dove la voglia già mi passa, la sveglia che mi spacca La testa che vuole vacanza Ma come provare ciò che serve per affrontare tutto ciò che mi attacca Ma il mio segreto lo sai, per affrontare tutti quanti i miei guai Puoi fare come me, mettere la mano al cielo, toccare il tasto rosso e li trovi online Puoi farti una risata oppure condividere emozioni Non è una cavolata, è ciò che lasciano nei cuori E ti fa andare su, chiamerai anche tu e poi Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa del che sei capace Già che ci sei, iscriviti da te, tu e la sua lei e le video giornate E la coppia che scoppia su uno come noi, la vita di coppia mi suda l'eroe La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ad Alice dentro al nostro cuore Vedrai che poi ti passerà come guardare un altro video potrà Tirarmi su proprio oggi dove tutto non va, ma quando Alice si sa sorriderà La mia giornata decollerà Non so che sei aggiornato, non riesci più a resistere a ciò che ti ho già cantato Non so che già hai provato a rimanere triste dopo quello che hai guardato Ma adesso sei felice e ridi quasi mancaziato Dammi la mano, piaceremo lontano, ora tutto è possibile e basta che ci crediamo E tu già lo sai che ci siamo Dei posti rossi fra le parole tam e tu Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa dai che sei capace Già che ci sei ispiritizzate sui la sua layer e le video giornate E la coppia che scoppia su uno come noi, la vita di coppia mi suda l'eroe La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ad Alice dentro al nostro cuore Bella Freights, io sono Karma Rouge e sono l'autore della sigla della Coppia che scoppia Mi raccomando, se volete sapere molto di più su di me e su come ho fatto a fare una sigla Come si fa a fare una roba del genere Qua sotto in descrizione trovate il link del mio canale Oppure qua sopra nelle schede, in alto a sinistra o a destra E quindi raga vi aspetto numerosi, cliccate, venite, iscrivetevi Peace! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa dai che sei capace La coppia che scoppia, se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale La coppia che scoppia su uno come noi, la vita di coppia vissuta da eroe La coppia che scoppia è un'esplosione, clicco ad Alice dentro al nostro cuore Ciao!